Proposte, questo montone shirling da 2200 euro, ora scontato a 250 euro soltanto. Questo cappotto in visone da 4500 euro, ora scontato a 500 euro soltanto. La pelliccia dei vostri sogni o il capriccio di una stagione, ora sono accessibilissimi. Con gli eccezionali sconti fino al 90% potrete acquistare anche più di un capo. Affrettatevi, da VT dell'arte in occasione del fuori tutto. Questo è il momento migliore per scegliere fra centinaia di capi di innumerevoli modelli e colori, a prezzi scontatissimi. Giacca in visone da 3000 euro, ora con il fuori tutto a soli 500 euro. Affrettatevi, non possiamo garantire la disponibilità, perciò vi invito a fare presto. Prezzi incredibili e irripetibili, fate presto da VT dell'arte, c'è il fuori tutto. Telefonate per informazioni al numero 030 9107. Con il fuori tutto, da VT dell'arte, gli amatissimi giacchini in pelliccia sono a partire da 400 euro. Affrettatevi, non possiamo garantire la disponibilità, perciò vi invito a fare presto. Si tratta di capi unici, capi di tutte le taglie, ma ognuno in una sola taglia, quindi per trovare maggiore scelta bisogna fare presto. Lo showroom d'utile dell'arte è aperto tutti i giorni e anche la domenica, con orario continuato. Telefonate per informazioni al numero 030 9107. Capotti classici in visone da 5000 euro, ora scontati a partire da 500 euro soltanto. Pellicce spiritose e colorate, più mini fashion, sportivi smanicati, pellicce classiche, tutto scontato fino al 90%. Capi in pelle, più mini e shirling a partire da 100 euro. È il momento degli affari, con il fuori tutto di VT dell'arte avete la possibilità di acquistare 5 capi al prezzo di uno soltanto. Ecco che cosa vi potrebbe interessare. Questo meraviglioso piumino, da 1900 euro, ora scontato a 350. Giacca in visone da 3000 euro, ora con il fuori tutto a soli 500 euro. Affrettatevi, non possiamo garantire la disponibilità, perciò vi invito a fare presto. Si tratta di capi unici, capi di tutte le taglie, ma ognuno in una sola taglia. Quindi per trovare maggiore scelta bisogna fare presto. Lo showroom boutique dell'arte è aperto tutti i giorni e anche la domenica, con orario continuato. Telefonate per informazioni al numero 030 9107. Capotti classici in visone da 5000 euro, ora scontati a partire da 500 euro soltanto. Grazie allo strepitoso successo delle passate edizioni, boutique dell'arte ripropone il fuori tutto. Gli sconti sono fino al 90%. Fate presto, i capi sono richiestissimi. Per informazioni sui capi che state guardando, telefonate al numero 030 9107. Vi aspetto, autostrada 4 Milano-Venezia, uscita Sirmione. Si tratta di capi unici, capi di tutte le taglie, ma ognuno in una sola taglia.